oggi, perché? Per un motivo molto semplice, perché di fascismo ancora si muore, si muore in questa regione, si muore in questa città e si muore un po' in tutta Italia e anche in tutta Europa. Le politiche fasciste e razziste a partire dall'Unione Europea, così come in questo paese, hanno dei nomi e cognomi. In questo paese si chiama Lega Nord, si chiama Matteo Salvini, che è il mandante politico di quello che sta succedendo, di quello che è successo pochi giorni fa a fermo. In questa città e in questo territorio, nel sud delle Marche, ci sono state diverse aggressioni a migranti, ad attivisti, ad antirazzisti, perché di queste politiche continuano ad essere aggressive, fomentano odio, si continua a fomentare una guerra fra poveri. Noi diciamo che invece la guerra va fatta alla povertà e la povertà non ha colore della pelle, non ha provenienza e non ha carta d'identità. Si continua a morire perché gente come quelli di Casa Pound, di Forza Nuova, questi pezzi di merda, questi criminali, hanno un'agibilità totale, hanno un'impunità garantita da chi sta sopra di loro. E parliamo delle questure, parliamo di Salvini. In questo paese si continua a morire di fascismo perché viene ogni volta strumentalizzato qualsiasi tipo di cosa. Si è cercato di far passare questo omicidio, prima come una rissa fra Balordi, poi cercando di spostare l'attenzione sugli ultra, su un fenomeno sociale che non ha niente a che fare con quello che è successo. Uno può fare quello che cazzo gli pare nella vita, non c'entra niente se è un ultra. Noi non ce l'abbiamo con gli ultra di questa città, noi ce l'abbiamo con i fascisti di questa città. È tutta un'altra cosa, è veramente tutta un'altra cosa. Il razzismo si continua a morire, allora noi oggi diciamo che è un punto di non ritorno. Almanuele per sempre, con rabbia e con amore, non succederà mai più. Chiudiamo tutte le sedi di Casa Pound e di Forza Nuova in questo territorio.